Salve ragazzi, allora ieri non mi sono, cioè il video l'ho fatto però trovo che non ho fatto tutto quanto Allora, non parliamo dell'Inter, oggi parliamo del Milan perché nel video avevo detto che avrei detto qualcosa agli interisti più in là Però adesso parlando del Milan ragazzi, tra l'altro maglietta 7 volte campioni Comunque allora, questo è d'Europa però, d'Italia, ma non penso che la prenderò perché da mia lista mi basta aver vinto lo scudetto Non devo fare il pagliaccio come qualcun altro Allora, per quanto riguarda i rossoneeri ragazzi, volevo solo fare un video tributo a Stefano Pioli Grande Mister, tu sì che hai fatto veramente tanto per il Milan Perché tu non sei come piangino in zaghi ogni volta che subisce Io non posso capire se uno subisce un torto, ma uno subisce un fallo contro senza manco aver subito un torto Perché magari era giusto, che l'aveva segnalato, piange come un cretino, urla, fa... Ma quanti cazzo di anni tieni? Due! Cioè, io non lo so, veramente Poi nel derby contro di noi a dire, gol annullato, non ho visto, non hai visto Ma se ti stavi lamentando come un cretino, cioè io non lo so, veramente, guarda In zaghi è un piagnone proprio da prendere a schiaffi Perfino Giampiero Gasperini ha detto il Milan mate allo scudetto Cioè, cazzarola, perfino Gasperini si è inchinato di fronte a noi Porca puttana, il mondo sta veramente cambiando Comunque qua, in questa stagione, è venuta fuori le qualità di Pioli Perché lui, come allenatore, Zlatan ci ha fatto diventare grandissimi all'alimentalità E ti ringrazio molto, Ibra Pioli ha fatto la parte tecnica Lui stesso ha detto, Pioli è un maestro Cioè lui, Zlatan, crede in Pioli e lo sa, grandissimo Zlatan Pioli, veramente, Stefanuccio, hai fatto i salti mortali Con questa squadra hai fatto i miracoli, sì, perché le hai fatti rinascere Le hai fatti diventare vincenti, perché la squadra ora si rende conto di poter combattere I Mian, una squadra normalissima Io posso capire alcuni come Krunic o Rebic Oh, guarda il sonno, ma non ho dormito ieri notte Grandi ragazzi, campioni d'Italia Comunque, dicevamo, non ne posso capire Rebic, questi qua, insomma, Krunic Che però dall'anima O Balloture o Calabria Ma cazzo, Florenzi è un fuori classe De Orlandez non ne parliamo proprio che campione che è diventato Tomori e Calulo sono ottimi giocatori Magnane è un campione Teo, non è che te lo ho detto, lo dire, Tonali è diventato un campione oramai Benasera altrettanto Poi, che ci sta che sì, ma se ne va via Vabbè, ma comunque lui è anche un ottimo giocatore anche lui Giroud è un campione Leao è un fuori classe Ragazzi, ma sto Milan che c'ha di inferiore rispetto all'Inter Ma pure, vedendo il confronto Allora, confrontiamoli Ora si può fare Ora che ho vinto, posso, non lo scherzavo Posso confrontarli, comunque, a prescindere Allora, questo confronto Se qualcuno mi segue su Instagram L'ho già fatto un bel po' di volte Facendo l'hashtag delle C'è l'hashtag facendo che sto dicendo Lo screenshot delle formazioni Milan e Inter Tipo, la formazione tipo Allora Con i cambi nuovi e quelli là vecchi Allora, facciamo un confronto Allora Breve però Maignan contro Andanovic E mo' è venuto Onana Onana è forte Ma Maignan è senza dubbio più forte Quello è giovane Un campione come portiere Cioè, ragazzi miei Ma che cazzo vogliamo paragonare Magic Mike Però È forte anche Onana Andanovic Cioè, per carità Ma non c'è Non c'è Insomma Non c'è Non c'è Non c'è dubbio Sul fatto che Maignan è molto più forte Cioè, ragazzi miei Poi In difesa Qua c'è una parità Perché Skriniar De Vrai E Bastoni Non si possono proprio toccare Ma Kalulu Tomori Con l'alternativa E Kier Ma magari O Magnoli O Botman Se verrà Presente e futuro Sto dicendo Quello che verrà È alla pari Non possiamo negare questa cosa Gli esterni E il Milan qua Soffre di più Perché De Ornandez È più forte di Dunfris E di Darmian Non si può negare Come pure Però Perisic Dall'altra parte Calabria lo soffre un poco Però pure Daviduccio se la cava Ma Florenzi Non ha problemi A soffrire a Perisic Cioè, mo vabbè Se ne va Però per dire Insomma Anche Di Bala Se dovesse andare all'Inter Florenzi lo sa tenere Ma Calabria Non è così male Cioè, non è a livello di Florenzi Ma può reggere Però Non tanto quanto Florenzi Sia chiaro Ma vabbè Poi Centrocampisti Kakkanoglu Brozovic Barella Un super centrocampo Devo dirlo Dell'Inter Il nostro di quest'anno Che sì Tonali Benazer Ottimo L'anno prossimo Benazer Tonali Pobega O Adli O Renato Sanchez Non c'è tutta sta differenza Anzi Il Milan Quest'anno si è dimostrato Superiore all'Inter Da questo punto di vista Brozovic è un campione Non si nega Gure Barella Ma c'è la Noglu Un giocatore normalissimo Tu dice tutti i gol Che ha fatto Why you Quattro rigori Quattro rigori Gli assist sono stati belli Quelli tutti meditati Ma Pure col Milan Li ha fatti Ma non è che abbiamo vinto Lo scudo con queste cose L'abbiamo vinto con gli assist Di tutti Comunque Dei sette gol Che ha fatto Quattro sono rigori E uno è una deviazione Che cazzo vuoi dire Veramente Comunque Non sto sminuendo l'Inter Milan e l'Inter Dico solo che sono più pari Di quanto crediamo In realtà L'attacco Lautaro Dzeko Giroud Ibrahimović Mo' diventerà Giroud Origi E non mi sembra Così inferiore Certo Lautaro Fa tantissimi gol Parlamose chiaro Parlamose chiaro Leao fa tantissimi gol Però al posto suo Ci metto Leao E Leao è altrettanti Anzi secondo me Leao a livello tecnico È perfino più forte Di Lautaro Che è un campione Lautaro Non si può negare Lautaro Martinez È un campione Come pure Dzeko Ma Giroud E Leao Lo sono altrettanti Sono due campioni Tutte e due Tu dici Ma hanno vinto solo Lo scudetto Perché Lautaro Che ha vinto Oltre allo scudetto Ha vinto Supercoppa E Coppa Italia Le può vincere anche il Milan Per dirti Spero la Supercoppa Perché la Coppa Italia Ma lo scudetto Mi è passata la voglia Comunque Può farlo In un certo senso Capito Ma poi A livello di talento Leao è altrettanto bravo Anzi secondo me Lo è anche un po' di più Quindi Di tecnico I golli fa più Lautaro Però capito C'è già più confronto Le panchine Correa contro Rebic Rebic E' senza dubbio migliore Rebic Quindi c'è Pave ha uno dei loro migliori Perché li ci vi sto sminuendo Non è così Ad esempio In attacco Voi avete Come esterno Che a me sinceramente piace Abbastanza Di Marco Di Marco Mica è scarso Anzi Di Marco Secondo me È perfino superiore È anche migliore Per certi versi Perfino superiore Si può dire Per certi versi Di Krunic Però insomma Alla fine Non vincono sempre Solo i più forti Però Vedete Tra Inter e Milan Caro Pioli Questo è rivolto Tutto sto video Per fare sta cosa No perché è rivolto a te Non avevi una rosa inferiore Hai dovuto fare inconti Con molte infortuni E cose varie Ma non avevi una rosa inferiore Rispetto all'Inter L'hai saputa gestire Meglio di Inzaghi Tu l'hai fatto Con molti infortunati Caro Pioli La mentalità del Milan Vincente È qualcosa Che i neri azzurri Non potranno mai Avere L'anno scorso L'hai avuta con Conte Bravo Peccato che avevi Lukaku Che ti faceva un sacco di gol E a Chimi Che era un esterno Fortissimo Teo è diventato più Mi sbaglio sempre A mettere lì lo scudetto Teo è diventato più forte Sì Mio caro Comunque Non sminuisco L'ora erano l'Inter L'anno scorso Era molto più forte di noi Ora è il Milan Che li ha raggiunti Non è più forte Il Milan ha raggiuntoli L'Inter Con gli acquisti Pioli puoi superare l'Inter Comunque Fa piacere Pioli E come spesso accade Tu Che sei venuto al Milan Hai vinto lo scudetto Stando con l'Inter Non ci sei riuscito Come spesso accade I giocatori Passarono al Milan All'Inter È con noi Che vincono qualcosa Cioè Anoglu è però Vinto Coppa Italia E Supercoppa Italiana Indubbiamente Col Milan Non l'hai mai vinto Niente Sì Ma Col Milan Pioli ha vinto lo scudetto Che tu Caro cacca Anoglu Ti stavi sognando Lo scudetto L'ha vinto Passarono all'Inter Al Milan Pioli Quindi la tradizione Si è rimasta mantenuta Ossia Un giocatore Quando passa dal Milan All'Inter O dall'Inter Al Milan Le cose sono diverse Può capitare Che vinci comunque Pure all'Inter Sia chiaro Ma molto spesso È con noi Che ha vinto Qualcosa di importante Cioè Quello che è passato E come ha detto Iber Devi scegliere in meglio Non in peggio Bene ragazzi Vi lascio Che ora Ho il mio lavoro da fare Arrivederci Che c'è E' Che c'è Che c'è